Agguato in pieno centro questa mattina a Canosa di Puglia dove Giuseppe Caracciolo, un 48enne con precedenti di polizia, è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al cuore. L'omicidio su cui indagano gli agenti del commissariato di polizia di Canosa di Puglia con la squadra mobile di Bari è avvenuto intorno a mezzogiorno in Piazza della Repubblica nel centro della città. L'uomo è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Andria dove però è deceduto poco dopo. Gli agenti avrebbero già rintracciato il presunto autore dell'omicidio, un pregiudicato con cui la vittima avrebbe avuto una discussione qualche settimana fa. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Maria Isabella Scamarcio del Tribunale di Trani.